Ciao, bentornati al programma televisivo di oggi trasmesso da spettacoli televisivi con notizie come Anticipazione bomba per la fiction. Il paradiso delle signore. L'imprenditore Umberto Guarnieri deve fare i conti con un'esplosiva verità Nel 2018 l'apprezzato attore toscano Roberto Farnesi, è stato arruolato in corsa nel cast della serie TV Rai. Il paradiso delle signore. In cui ha prestato il volto al personaggio di Umberto Guarnieri Il volitivo imprenditore della fiction, ha sin da subito riscosso l'apprezzamento da parte del pubblico femminile. E non smette di animare le dinamiche nel canovaccio narrativo creato dagli sceneggiatori D'altronde. Umberto Guarnieri non ha mai nascosto le sue mire e la sua brama di potere. Ma sta per incorrere in un momento di profondo disagio Le ultime puntate de. Il paradiso delle signore. Riserveranno infatti ad Umberto una rivelazione decisamente scioccante. Ecco che succederà all'interno della serie TV dell'ammiraglia Rai Il paradiso delle signore. Tutte le anticipazioni. Nelle imminenti puntate. Ciro paleserà la propria delusione nei confronti della famiglia. Dopo aver scoperto che Agatha ha iniziato il suo periodo di prova al, paradiso delle signore, in combutta con la moglie Agatha decide quindi di non presentarsi a lavoro. Ma il clima in casa resta teso Nel frattempo, Maria e Matteo incrociano nuovamente le rispettive strade. E l'incontro riserva ad entrambi un pizzico di imbarazzo. Soprattutto alla luce del bacio rubato in passato Marcello interrompe poi il confronto. E ribadisce la sua sfiducia nei confronti di Matteo. Che gli aveva rivelato di essere suo fratello Le foto dello shooting fotografico eseguito presso il, Paradiso delle Signore, sono intanto arrivate a Matilde. E quest'ultima contatterà Vittorio per confrontarsi sulla copertina della nuova edizione del Paradiso Market I due candidati per il paginone iniziale potrebbero essere Alfredo o Salvatore. Entrambi interessati a spiccare come modelli. Ma non si conosce ancora l'identità del favorito Matteo andrà poi a visitare la madre in clinica. E la raguaglierà circa il nuovo battibecco con Marcello Un ultimo e decisivo colpo di scena riguarda proprio l'imprenditore Umberto Guarnieri. Da tempo impegnato a ricercare la verità su Odile Egli scoprirà che la giovane, in ultima analisi, è figlia di Adelaide. E deciderà di rimanere accanto a quest'ultima, vedendola sofferente Con buona pace di Flora. Ancora innamorata di lui e desiderosa di costruire un futuro felice al suo fianco Ci sarà finalmente un ritorno di fiamma. Tra Adelaide ed Umberto? Grazie a tutti.